oh eccoci cari ballini e ragazzi adesso diventa un po' io mary poppins come fa super ca li fa spilistiche spiloso super mimilo o calasso balloccoloso super do basta un poco di pillola e lo zucchero va giu lo zucchero va giu ma leo per favore non va bene bambini ecco le ultime sette domande come l'ho detto nella puntata scorsa il nostro link sotto la nostra scenetta dove c'è il primo commento vi leggo le sette domande nell'inferno in quale cerchio si trova caronte seconda domanda in quale cantica si trovano paolo e francesca terza domanda nel purgatorio quante sono le pi incise dall'angelo sulla fronte a Dante quarta domanda nel purgatorio chi era stazio quinta domanda chi guida Dante su nel paradiso settima e ultima domanda in quale cantica si trova san bernardo di chiaravalle rispondete giusto perché controllo io le risposte parola di Mary ciao bambini oh ma 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 abbiamo finito abbiamo finito no no la macchina del tempo macchina del tempo ma no no macchina del tempo partenza partezza Oh, 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 oh